Cittadini del mondo. Ben trovati. Se non segui il sistema, sei punibile con il bavaglio e nei peggiori casi, anche di fermo e arresto in carcere. Guarda anche cosa è successo a tanti medici che volevano divulgare la verità e soprattutto guardate cosa è successo a Julian Assange. bavaglio, se non fosse che non me ne frega un cazzo di quello che pensano i creatori di questa piattaforma, e resto qui a far video per creare fastidio a YouTube. YouTube ormai comunica con noi, attraverso dei bot che commentano con spam di siti improbabili o con rischio di phishing. Sappiamo che quando vediamo questi commenti, è YouTube, o chi per loro, che ti tiene d'occhio. Proprio come il sistema. Per la vostra incolumità, sono costretto a chiudere i commenti dei video che pubblicherò su questa piattaforma. Fidatevi che lo faccio per voi. Questo canale, non è più sicuro. Abbiamo aperto un profilo e un gruppo su Teoven, chiediamo a tutte le persone di migrare dai social network spioni, e di passare a Teoven. Metterò in descrizione tutti i riferimenti per trovarmi anche su Twitter. In merito a questo, avviso inoltre che, questo collettivo ha profili, ormai, solo su YouTube, Twitter e Teoven. Chiunque al di fuori di questi siti nominati si spaccia per noi o parla per Emanon 7384, sappiate che non siamo noi e vi chiedo di farlo presente. Grazie per averci ascoltato. Qualsiasi cosa, sappiate che vi vogliamo bene, e tutto ciò che facciamo, a volte anche molta fatica, lo facciamo per le persone, per la libertà di parola, per la libertà di pensiero, per la libertà di espressione, per la pace, l'uguaglianza e la giustizia. Ci saremo sempre per voi, non vi abbandoneremo, anche se spesso la mente delle persone è facilmente corruttibile. Noi lottiamo per la giustizia, l'uguaglianza e la libera informazione gratuita. Noi siamo Anonymous. Noi siamo Legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Vi aspettiamo nel nuovo social. Aspettateci. Amore e rispetto. Grazie. 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 Grazie.